Si chiamano Pescarino e Pescarina, rappresentano due simpatiche stelle marine e sono le mascotte ufficiali dei prossimi giochi del Mediterraneo sulla spiaggia di Pescara 2015 in programma dal 28 agosto al 6 settembre nella città adriatica. La presentazione delle mascotte a cura del comitato organizzatore Pescara 2015 è avvenuta questa mattina all'interno del programma di educazione lo sport non va in vacanza che coinvolge oltre 200 ragazzi in attività quotidiane ludico sportive promosso dal CONI e dall'assessorato allo sport del comune di Pescara. Le due mascotte sono state disegnate dal giovane Matteo Signore ventenne artista diplomato all'Accademia del Fumetto di Pescara. È già una bella apertura poi fatta qui allo stadio che come ho detto ai bambini è il tempio dello sport e davanti a questi bambini festanti è come se fosse una vera e propria apertura forse la vera apertura diciamo ha ragione lei è molto simpatico quello che è successo oggi è un primo passo ufficiale è vero che mancano solo due mesi però ne seguiranno altri della stessa importanza. Sono sport alcuni completamente nuovi perché c'è l'Aquathlon che è un po' una sorta di triathlon con lo sconto come lo chiamo io e poi però ci sono degli sport importanti affermati molto seguiti che hanno molto appeal tra i difosi come il beach soccer, il beach volley, l'handball che ci avrà maschile e femminile, canoa, cano a mare, canottaggio a mare quindi sono tutta una serie di sport che o per il loro appeal o per la loro novità sportiva avranno seguito e ci auguriamo anche seguito televisivo. Sicuramente è un'occasione importante noi dovremmo adoperarci tutti un po' di più per promuovere il nostro territorio anche attraverso manifestazioni di questo genere. L'Abruzzo si trova in una situazione geografica ottimale è una terra ospitale bellissima quindi ha tutti i presupposti per poter diventare un centro fondamentale per manifestazioni sportive di altissimo livello.